amici del portale del verde buongiorno ben ritrovati oggi qui dall'orchideria di morosolo andremo a dare qualche buon consiglio a tutti coloro che hanno in casa un'orchidea andremo a vedere soprattutto come l'orchidea ci comunica che non sta bene cioè qual è il segnale che l'orchidea ci manda andiamo a chiederlo a Edmondo Pozzi bene allora Edmondo partiamo dal primo segnale che l'orchidea ci lancia allora un segnale che l'orchidea lancia si vede anche dalle foglie queste qui quando le foglie le fanno così molli raggrinzite le chiamano orecchie dei cocker perché sembrano proprio orecchie dei cocker questo è un classico sintomo di un colpo d'asciutto cioè la pianta andava bagnata e non ha avuto acqua quindi la radice non pompando acqua perché non c'è non c'è acqua allora la foglia si raggrinzisce e perde di consistenza in questi casi se è un colpo d'asciutto basta mettere prendere un piattino con un po d'acqua si mette a bagno un quarto d'ora una mezz'oretta in modo che si riempie un po d'acqua e lei torna normale quindi è un segnale che lei ci dice che ha bisogno di bere giusto questo però perché io so che ha avuto un colpo d'asciutto perché la conosco so che ha avuto un colpo d'asciutto perché può fare lo stesso lavoro se anche se ha le radici marce cioè se è stata bagnata troppo perché anche lì in quel caso lì le radici essendo marce non pompando acqua le foglie si affoloscano perché non avendo acqua le foglie si affoloscano allora in quel caso lì se sono radici marce bisogna tirarla fuori dal vaso tirar via tutto quello che c'è di marce di secco e rinvasare in un vaso nuovo quindi allora può essere la mancanza d'acqua oppure le radici marce e quindi non riuscendo a pompare acqua le foglie hanno lo stesso effetto questa è una un po' più più asciutta ancora che si vede che è un po' più le foglie sono ancora più molli sono ancora più ragrinzite perché questa è stata ancora un po' più asciutta di quella lì basta mettere la mollo e si riprende se invece sono marce no va rinvasata ok e un altro segnale che invece la pianta ci lancia quando non sta bene quale può essere e possono prendere tanti parassiti per esempio adesso qua c'ho questi qui che è il ragnetto rosso che fa praticamente si vede che le foglie se si toccano le foglie sono proprio scavate si sente che sono un po' più scavate sono in rilievo proprio sì perché sono dei piccoli piccolissimi insetti che pungono la foglia e la concia così cosa si può fare qui il mondo e bisogna usare un insetticida specifico per l'insetto comunque sia se uno ha un problema magari farla vedere a qualcuno che ne conosce sì perché magari può essere uno pensa che magari è ragnetto rosso però magari è cocciniglia e poi le cose magari non vanno bene se la tratta per ragnetto rosso anziché per la cocciniglia quindi diciamo che in buona sostanza sono due i segnali che ci può mandare la pianta sì questi sono i principali poi non so come la cocciniglia anche lei si vede proprio che le foglie vengono mangiate sono deperisce la pianta comunque se c'è un problema la prima cosa da fare contro le radici a parte questi qui che le foglie si vede che è un problema di insetto proprio il resto bisogna controllare le radici perché probabilmente da radici arriva tutto parte tutto da lì quindi l'orchidea bisogna sempre andare comunque il cuore dell'orchidea e la radice che può essere da lì che viene con il problema bene ringraziamo edmondo pozzi e vi invitiamo come sempre a mettere un bel pollice all'insù se avete considerato questo video utile per voi e per gli altri ed iscriviti al nostro canale ciao alla prossima